Sono tanti i misteri che avvolgono la scomparsa e la morte di Liliana Resinovic, la donna di Trieste trovata morta il 5 gennaio poco lontano dalla sua abitazione. L'autopsia ha stabilito che è morta per scompenso cardiaco acuto, ma al momento non ci sono persone indagate e la procura procede contro i gnoti ipotizzando il reato di sequestro di persone a carico di gnoti, ma resta comunque aperta anche l'ipotesi di omicidio. Nel frattempo il marito dichiara, eravamo felici, ma qualcosa non torna in quanto le testimonianze di amici e parenti parlano di un rapporto logoro e ormai avviato verso la conclusione, soprattutto dopo che Liliana si sarebbe riavvicinata a un amico con il quale aveva avuto una relazione anni fa.